Sky. Torniamo a Roma per i 240 anni della Fondazione della Guardia di Finanza. Alle celebrazioni è presente anche il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Abbiamo in diretta Tonia Cartolano. Eccoci Jacopo, buongiorno. Allora, 240 anni della Fondazione della Guardia di Finanza in un momento particolare, tra l'altro, che riguarda il corpo che è stato investito da inchieste giudiziarie, ma a che fino ad ora ha ricevuto davvero un sostegno e una fiducia bipartisan e soprattutto istituzionale da ogni parte, come qualche giorno fa dal Capo dello Stato, che ha definito la Guardia di Finanza baluardo della legalità per le numerose inchieste e operazioni che sono state portate a compimento con successo. E ancora altri successi, altri risultati, sono arrivati già nei primi cinque mesi di quest'anno. Abbiamo con noi il Maggiore Berruti, che ringrazio, del Comando Generale della Guardia di Finanza, ricordando, tra l'altro, che qui è in arrivo anche il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, per chiederle, Maggiore, quali sono i risultati che avete conseguito fino ad ora nella lotta costante quotidiana all'evasione fiscale, alla corruzione e anche nella pubblica amministrazione? Buongiorno a tutti, anzitutto, i risultati sono molto importanti. I risultati testimoniano come questi 240 anni di storia sono 240 anni di servizio per la collettività e riguardano tutti gli ambiti numerosi in cui opera la Guardia di Finanza, dall'evasione fiscale alla lotta al contrabbando, arrivando fino ai servizi più importanti, quelli per i cittadini, quelli sul soccorso alpino, quelli in mare. Una Guardia di Finanza impegnata, direi, a 360 gradi. Maggiore, ci dà qualche numero, però, sui risultati? Per esempio, gli appalti regolari che sono stati individuati, quanti sono? Oltre un miliardo? Sì, gli appalti regolari sono uno dei settori più importanti perché afferiscono alla criminalità economica e quindi sicuramente sono uno degli aspetti su cui il Comando Generale e la Guardia di Finanza ha posto maggior interesse. Questo dato, oltre un miliardo, certifica come l'impegno della Guardia di Finanza sia un impegno costante ma sia un impegno, come dire, sempre in prima linea. La ringraziamo, oltre chiaramente, Jacopo, ricordandovi, anche i sequestri di 44 milioni di prodotti contraffatti, per esempio il sequestro di beni ad evasori fiscali per oltre 460 milioni di euro. Immaginiamo che queste sono cifre che, tra l'altro, vi diamo in anteprima che saranno analizzate nel corso di questa mattinata per i 240 anni della Guardia di Finanza, mattinata che seguiremo in diretta e per la quale, insomma, è previsto anche l'intervento del Ministro dell'Economia, Padoan. A più tardi, intanto, grazie Maggiore. Grazie, buongiorno.